ci voleva questo gol sotto la curva nord che grande soddisfazione la soddisfazione per il vittore della squadra penso che oggi l'abbiamo meritato abbiamo fatto una bella partita siamo creati tante occasioni poi la squadra di Porto è una squadra che è molto forte però siamo preparati molto bene per quella partita lì adesso dobbiamo continuare a far bene in campionato e a fare un bel risultato di noi partita difficile l'avete affrontato molto bene creato tanto quanto era importante questa vittoria sì sì era molto importante di chiudere questa partita come vittoria abbiamo provato di fare il secondo gol però non siamo riusciti un po peccato però non dobbiamo essere troppo negativi dobbiamo essere contatti con questa vittoria contro una squadra con un ottimo squadro romelu avete anche giocato con intelligenza e letto anche molto bene i momenti della gara quali sono stati secondo te i momenti chiavi oggi i due parati di di onana andrea oggi ha fatto una bella partita e anche a tutta la squadra hanno fatto un ottimo lavoro i giocatori che hanno iniziato la partita i giocatori che sono entrato abbiamo tutti provato ad aiutare la squadra anche i giocatori che erano in panchina e a dare sempre motivazione siamo sempre la stessa squadra quando sono arrivato niente ha cambiato poi veramente siamo contenti con quel risultato perché giocare con una squadra così non è facile ultimissima a romelu manca ancora la partita di ritorno c'è strada ancora da fare ma oggi avete dimostrato come si affrontano queste sfide sì 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 abbiamo affrontato con un grande mentalità intelligenza e tattica e poi abbiamo provato di sfruttare le nostre occasioni penso che quando giochiamo di là sarà una partita molto difficile perché loro hanno dei grandi tifosi hanno un vero stadio però noi calciatori vogliamo giocare in questa situazione poi penso che noi saremo preparati per questa partita grazie a romelu e complimenti dei migliori risultati possibili nella classifica questo uno a cero in che posto stava la vera è che non so che diciamo perché per me lo mai importante era ganare oggi no è certo che io avrei voluto mettere più gols però è una vicina molto importante e sabemos che abbiamo un'altra battaglia lì che va a essere molto dura e sempre siamo preparati noi andre grande serata per l'inter qui a san siro non è un risultato che dà grandissime garanzie in vista in vista dello do dragao ma un risultato da cogliere con grandissima soddisfazione sì la vera è che sì, questo dimostra il lavoro dell'equipo lo duro che fu, abbiamo jugato contro un equipo che fu che fu molto difensivo che è molto difficile di ganare e juntos lo abbiamo conseguito che non era facile, abbiamo lavorato juntos e io credo che il collettivo ha premiato, tutti lo abbiamo visto che sono che vennero di fuori che non dieron la vittoria, per lo tanto vittoria merissima e molto soffrita. Andre quali sono stati secondo te i momenti chiavi della partita, immagino la tua doppia parata nella stessa azione è uno di questi. La verità è che io credo che il momento clave è il gol del Romelu, è stato il che non dà la vittoria e sto molto contento con lui perché è stato un momento difficile e ha fatto un gran gol e sono contento. La verità è che io non vedo le parate che faccio, mi vedo più i errori che commetto perché al final io sempre dico, essendo un partito, l'errore sta al lato tuo, per lo tanto si apprende molto dei errori e sto molto contento della vittoria. I tifosi sono anche oggi fino alla fine stati a vostri fianco e ce li giocheremo fino in fondo, questo sicuro? Hanno fatto un lavoro fenomenale, ci hanno impugnato dal calentamento, dal calentamento e dal final del partito e con loro siamo sempre più forti. Ecco, con Akan Celanoglu complimenti per questo premio, immagino una grande soddisfazione. Sì, si vede. Più alto, più alto. No, grazie mille. Ho detto già prima questo, lo regalo, le premie per la Terramoto in Turchia, ho già detto prima, perché quando esco adesso in campo sto pensando sempre a loro perché è stato due settimane molto difficili per me, sarà ancora, perché non dimentico mai, però sono contento che abbiamo vinto oggi. A Akan, il Porto è un grande avversario, ma l'Inter ha dimostrato di sapere affrontare queste sfide con personalità e tanto, tanto cuore. Sì, lo sappiamo già prima che è una squadra forte, è stato difficile oggi, in un campo molto difficile. Spero che lì c'è un campo bello per giocare meglio, però credo che oggi abbiamo creato tante occasioni, però non abbiamo fatto un gol. Alla fine l'ha meritato questo gol che abbiamo fatto. Sono molto contento anche per Romelu, che ha fatto un gol, che ha bisogno di questa fiducia e lo sapendo che lì sarà ancora più difficile di oggi. Akan, stasera c'è sempre stata poi la concentrazione, è giusta? Sì, la concentrazione era molto alta, quando giochi Champions in alto livello sarà sempre diversa, perché ci sono tante squadre che sono forti e devono essere sempre pronti e concentrati. L'ultimissima Akan al centrocampo con il ritorno anche di Brozovic è difficile non trovare un reparto con così tanta qualità, sia in Italia che in Europa, sei d'accordo? Voi sapete meglio di me, non sono contento perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori, abbiamo centrocampi di tanta qualità, con Bari, Micchi e Brozo, tutti meritano questo 90 minuti perché tutti sono forti e noi che gioca dà sempre il massimo. Grazie, Akan. Grazie a voi. Eccoci nella compagnia Mkhitaryan, ciao Henry, una partita carica di grande emozione, con che parola si comenta una gara così? Difficilissima, abbiamo sofferto, abbiamo lottato, abbiamo fatto il meglio per vincere questa partita, alla fine siamo riusciti, però con grande difficoltà, meno male che Rome ci ha dato una mano e abbiamo vinto questa partita. Avversaria di grande qualità, non era semplice, ma avete messo tutto dentro il campo? Sì, però giocavamo contro una squadra di grande esperienza in Champions, Porto non è un avversario facile per dire che dovevamo vincere facilmente, hanno mostrato che sono qua a vincere anche loro, però abbiamo mostrato che lotteremo fino alla fine e vogliamo vincere questa partita. Abbiamo visto che tutte le partite si giocano e bisogna rimanere concentrati, ma questa partita sicuramente celebra il gruppo. A queste partite dobbiamo essere doppio concentrati, la concentrazione non basta, dobbiamo essere in partita per tutti i 90 minuti, sappiamo che c'è un'altra partita difficilissima da giocare in Portogallo e saremo pronti anche per quella. Eccomi, in Portogallo non è semplice, che Inter dobbiamo aspettarci? Mancano ancora 90 minuti tutti da giocarsi. Un Inter fortissimo, un Inter che non considera errori e un Inter che farà gol. Grazie. 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 Grazie.